cari amici oggi parliamo di macron e della protesta dei gilet gialli iniziamo subito a capire da dove arrivi macron e chi sia dal momento che era un giovanotto completamente sconosciuto prima che diventasse ministro dell'economia nel 2014 macron partecipa alla riunione del bildelberg a copenhagen due mesi dopo ci sarà un rimpasto e macron diviene ministro dell'economia per poi diventare presidente della repubblica francese macron proviene dai vertici del cartello finanziario speculativo perché proviene dalla banca dei rothschild molti dicono che macron sia il renzi francese ma al di là dell'età in realtà macron assomiglia molto di più a monti infatti mario monti è presidente europeo della commissione trilaterale membro del direttivo del bildelberg e proveniente dalla goldman sachs quello che più avvicina macron a monti sono le scelte politiche a favore della finanza speculativa e contro il popolo sovrano infatti macron per esempio ha tolto la patrimoniale ai ricchi ha diminuito le pensioni perfino quelle minime ha diminuito i diritti dei lavoratori oltre ad aumentare i carburanti e a portare avanti un'immane riforma dello stato questo ha portato ad un drastico calo dei consensi nei sondaggi secondo i quali solo un francese su quattro sosterrebbe ancora macron e allora macron che cosa ha fatto per risollevare i consensi ha applicato dei tagli fiscali sulla casa che però stanno mandando le casse francesi in profondo rosso il fabbisogno finanziario a settembre ha registrato un aumento di 10,8 miliardi di euro rispetto all'anno precedente e questo senza contare che il deficit pil della francia nel 2017 è stato del 2,6 per cento ma quest'anno potrebbe sfiorare se non addirittura superare il 3 per cento ma nonostante questo il 2,4 per cento proposto dal governo conte a macron e a bruxelles proprio non va giù e qui apro una parentesi mattarella che poi non è altro che la proiezione di napolitano anzi più esattamente mattarella è l'ologramma di napolitano ebbene mattarella ancora una volta si schiera a favore dell'oligarchia finanziaria e contro il nostro governo contro il voto popolare e quindi contro la democrazia ma nonostante questo mattarella ammonisce che il pareggio di bilancio è sancito dalla costituzione ebbene sarebbe l'ora che gli italiani si svegliassero e che scendessero tutti quanti in piazza per ricordare a mattarella e ai suoi compagni che il pareggio di bilancio in costituzione lo ha inserito mario monti senza consultarsi con gli elettori esattamente come prodi ci ha portato nell'euro con l'inganno e senza nessun referendum anche se continuano a spacciare sondaggi falsi secondo i quali la maggioranza degli italiani vorrebbe restare in europa la realtà è sotto gli occhi di tutti ed appare molto diversa ma tornando in francia scoppia la rivolta e macron cosa fa non avendo alcuna capacità politica ma un enorme potere occulto usa le sue armi ovvero violenza soppressione e disinformazione per influenzare l'opinione pubblica e sminuire le proteste il governo in un primo momento etichetta i manifestanti come violenti di estrema destra ma poi è costretto a fare marcia indietro e macron propone addirittura un'improbabile apertura a gilet gialli che pochi giorni fa sono stati ricevuti dal ministro dell'ambiente ma la verità è che macron durante la protesta si è letteralmente volatilizzato lasciando la gestione dell'emergenza nelle mani del ministro dell'interno castaner con un bilancio di 400 feriti di cui 14 gravi ed un morto questo è successo non solo perché è mancata la gestione politica che macron ha vigliacamente delegato ad altri ma soprattutto perché macron e castaner volevano il bagno di sangue tanto è vero che hanno infiltrato degli agenti tra i gilet gialli affinché provocassero disordini e scontri con la polizia nel video che segue si vedono chiaramente due agenti antisommossa placare un gilet giallo sugli champs elisee il ragazzo urla no ragazzi io sono con voi e i due agenti replicano non ci interessa e lo trascinano via ma subito dopo arriva un loro superiore che gli ordina di rilasciare il ragazzo immediatamente direi che le immagini parlano molto chiaramente e non necessitano di ulteriori commenti ma questo filmato non è certo l'unica prova che ci sono stati degli infiltrati tra i gilet gialli per esempio claude pensionato pubblico racconta all'inizio era tutto calmo abbiamo anche contattato delle guardie antisommossa per discutere ma poco a poco abbiamo visto arrivare gruppetti di 3-4 persone vestite di nero e coi passa montagna si vedeva che erano lì per fare la guerriglia perché non li hanno fermati prima che entrassero negli champs elisee una giornalista intervistata da bfm tv ha dichiarato di aver visto con i suoi occhi le forze dell'ordine lasciare passare delle persone chiaramente identificabili come violenti come teppisti o come casseurs come li chiamano in francia priscilla ludovski una delle due donne ispiratrici della protesta ha dichiarato le forze dell'ordine hanno fatto passare i teppisti e mi hanno fatto capire chiaramente che le decisioni venivano dall'alto d'altronde sappiamo benissimo già dal g8 di genova e dai fatti della scuola diaz che esistono uomini delle polizie europee e dei servizi che si infiltrano tra i black bloc per alimentare disordini e scontri con la polizia ricordiamo alcune testimonianze dei giornalisti ho sentito un poliziotto dire ad un altro fatti trovare a mezzogiorno all'angolo tra corso buenos aires e piazza paolo da novi arriveranno dei black bloc e distruggeranno la banca due o tre minuti al massimo è quello il segnale dell'inizio del macello nelle vie laterali appena dietro gli scontri giravano strani giovanotti in motorino apparentemente per dare indicazioni ai black bloc alcuni di questi poi li ho visti parlare tranquillamente con funzionari di polizia in borghese ma perché alimentare disordini e scontri con la polizia beh perché in questo modo l'opinione pubblica viene impressionata ed è portata a generalizzare e quindi a condannare la manifestazione e tutti i manifestanti gli organi di informazione si concentrano sugli scontri e come si sa i fatti cruenti essendo impressionanti attirano l'attenzione in questo modo l'opinione pubblica viene distratta e disinformata e il risultato è che le vere ragioni della protesta passano in secondo piano uscendone fortemente ridimensionate esattamente quello che è accaduto in francia dove il ministro degli interni castaner ha denunciato la deriva totale dei gilet gialli puntando il dito contro la radicalizzazione del movimento che avrebbe causato un numero altissimo di feriti ma la verità è che la stragrande maggioranza dei manifestanti era composto da donne pensionati e lavoratori gli ha fatto eco macron capisco e condivido i timori dei cittadini che hanno l'impressione di pagare la transizione ecologica senza trarne beneficio ma non ho alcuna intenzione di cedere a quelli che vogliono il caos poi aggiunge una frase che fa riflettere la protesta è normale perché le cose non accadono spontaneamente che tradotto significa dal momento che le cose non accadono spontaneamente è necessario imporle e quindi è normale che il popolo protesti e quindi dal momento che è normale che il popolo protesti non c'è niente di cui preoccuparsi va tutto bene poi ha affermato che la produzione di energia tramite centrali nucleari sarà dimezzata entro il 2035 mentre la francia dirà addio alle centrali a carbone nel 2022 insomma macron posticipa di 10 anni il dimezzamento del nucleare era infatti previsto per il 2025 ma inizia da subito a far pagare un prezzo altissimo ai francesi macron è un idolo per il pd che lo ha osannato a gran voce dopo la sua elezione e proprio come renzi guida un governo ormai isolato privo del sostegno popolare che si nasconde e fugge pochi inoltre raccontano quello che succede sull'isola dell'oceano indiano la reunion dove i blocchi e gli scontri notturni con la polizia vanno avanti ormai da giorni la capitale è vuota sembra una città fantasma e macron come reagisce democraticamente mandando l'esercito quello che è successo da sabato alla reunion è grave noi abbiamo messo dei mezzi e continueremo a metterli i nostri militari saranno mobilitati da domani per ristabilire l'ordine pubblico noi saremo intransigenti perché non possiamo accettare le scene che abbiamo visto una bella scelta da parte di un governo che ha il sostegno di solo un francese su quattro un vero democratico europeo sempre pronto a pacificare a suon di esercito e botte ma anche tra le forze dell'ordine c'è chi si schiera con i manifestanti in questa foto un gruppo di poliziotti posa indossando gilet gialli i poliziotti sono voltati di schiena qualcuno ha addirittura un cappuccio sulla testa per non farsi riconoscere evidentemente temono ritorsioni ma sopprimere non basta bisogna anche manipolare l'informazione e distorcere le notizie secondo i modi e lo stile massonico dei Rothschild di cui macron è un rappresentante ma incredibilmente la prima spacciatrice di fake news è proprio la deputata e relatrice del disegno di legge contro la manipolazione delle informazioni che ha pubblicato un tweet dove additava i gilet gialli come nazisti secondo il tweet il manifestante fa il saluto romano e quindi è di estrema destra peccato che questa sia una vera e propria manipolazione della realtà diamo un'occhiata infatti al video originale capito questa signora vorrebbe combattere la manipolazione dell'informazione ed è la prima a spacciare notizie false evidentemente non gli basta avere il controllo totale dell'informazione anzi della disinformazione vogliono anche mettere una censura definitiva alla informazione indipendente e alla libertà di parola con leggi medievali come l'articolo 13 michel anfrey filosofo e saggista di sinistra si unisce agli altri intellettuali che hanno appoggiato i gilet gialli e denuncia proprio le falsificazioni dei media e l'appoggio del governo ai violenti infiltrati un gilet giallo ha addirittura denunciato macron e il governo per messa in pericolo di vite altrui violenza con armi devastazione di beni pubblici insomma la ricetta di macron uomo dei rothschild del bilderberg è sempre la stessa in posizione disinformazione e violenza anche perché macron non si limita ad infiltrare dei violenti per provocare caos e feriti ma è il primo ad utilizzare la violenza e lui sì in modo nazista infatti ben alla uno dei responsabili della sicurezza personale del presidente macron il primo maggio durante una manifestazione della sinistra contro il governo colpì violentemente un manifestante e gettò a terra una ragazza ma non venne subito riconosciuto perché indossava un casco della polizia ovviamente ben alla non doveva nemmeno trovarsi in quel posto e nessuno ha mai spiegato che cosa ci facesse inoltre ben alla godeva di coperture interne di altissimo livello e di privilegi molto molto particolari secondo un sito algerino in realtà ben alla sarebbe un agente dei servizi segreti marocchini infiltrato e verrebbe da dire chi di infiltrato ferisce di infiltrato perisce comunque dopo i saluti trovate il video delle violenze sui manifestanti di questo vigliacco vicido servo del potere con un saluto dal vostro matteo di michele e ci vediamo al prossimo servizio e e suve l'arche c'è chi c'è chi suve l'arche suve l'arche oh ARRÊTE! 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 NON 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 NON!